E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Voi dovete sapere che questo gioco si chiama Spyro 2 Riptos Rage ed è rimasterizzato nella trilogia Regnited Trilogy. Questo livello si intitola Porto Brezza e noi dobbiamo capire cosa si deve fare. State a sentire che ha da dirci quest'artefice della brezza. Scusa il disordine. Siamo nel bel mezzo di un'infestazione di brucotti. Prima hanno spento il fuoco nelle caldaie e ora hanno arrestato anche la nostra nave. Se alimentassi il fuoco delle caldaie sono sicuro che potremmo raggiungere la nave. Il vapore delle caldaie attiverà i nostri sofisticati macchinari. Avete sentito ragazzi? Dobbiamo alimentare il fuoco delle caldaie così si può raggiungere la nave e il vapore delle caldaie attiva i sofisticati macchinari. Ricordatevi che prima dovete eliminare i brucotti che hanno l'acqua e una volta che li avete uccisi potete accendere il fuoco. Non cercate di accendere il fuoco quando arrivano i brucotti e ve lo spengono con l'acqua. Avete visto c'è un brucotto vestito da pompiere? Se accendiamo questo fuoco facciamo alzare il livello dell'acqua. Ho chiamato questo video come prendere il talismano del porto brezza. Io non avevo mai visto un porto spettacolare come questo dove si vedono navi volanti. Non so chi le inventa queste cose. Non dimenticate che questo porto brezza mi sta facendo impazzire. Avete visto quella ventola, quel ventilatore fa muovere queste navi? Noi dobbiamo raggiungere quella grossa nave e alimentarla. Ricordatevi che qui non siamo nella realtà, non siamo nel porto verde o nel porto di Genova o di Pescara. Questi brucotti vengono da Zefiro. Come ho detto voi dovete ucciderli, capite? Prima uccidete i brucotti che hanno l'acqua e poi una volta tolti di mezzo accendete il fuoco delle caldaie. Ora si sale su questa catapulta. Bene, ora che abbiamo raggiunto questa grossa nave vediamo di alimentarla. Alcuni brucotti ci hanno un secchio d'acqua mentre altri sono vestiti da pompieri. E abbiamo alimentato questa grossa nave. E finalmente possiamo prendere il talismano. Ora questo artefice della brezza ci ringrazia. State a sentire. Grazie per aver alimentato la nostra nave, Smile. Ora potremo contrattaccare Zefiro. Ti prego, accetta questo talismano come ringraziamento. Lo accetto questo talismano. Questo talismano è bellissimo. È l'ancora di vetro. È tutto, vi saluto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Parola di Gabri Costa. Grazie. Grazie.